Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Finalmente torno su YouTube e oggi vi porto con me in una mia giornata a tipo. Quindi vi mostrerò quello che faccio quotidianamente, che alla fine è quello che fanno un po' tutti. Ma c'è una novità, perché da poco, da quando GHD ha lanciato la nuova Styler senza fili, la loro prima Styler senza fili, GHD Unplugged, la porto sempre con me, non posso più farla senza. E oggi andremo a ritoccare un po' di book durante la giornata, perché lo sapete a me piace cambiare, aveva i capelli sempre diversi in base all'occasione. Quindi iniziamo subito, ora vi faccio vedere come si carica, che è semplicissimo per farlo praticamente un book. Quindi venite con me! GHD Unplugged si ricarica in sole due ore dalla macchina, dal laptop o da qualsiasi presa USB-C, per un utilizzo continuo di 20 minuti, ovvero il tempo per uno styling completo anche on the go. Adesso ad esempio sto editando dei contenuti al PC e intanto carico, come vedete, GHD Unplugged, dato che dopo dobbiamo uscire. E una cosa che mi piace un sacco di GHD Unplugged è che è dotata di indicatore di batteria intelligente. Tutte le Styler di GHD sono personalizzabili e come vedete anche GHD Unplugged ha il mio nome. Iniziamo subito con il primo look, che saranno capelli di lisci, quindi super semplici. Poi andiamo a capire magari come realizzarli con un look anche più mosso, dopo però. Quindi iniziamo subito. Spazzolo con GHD Mini Feather Brush e iniziamo. Tra l'altro, grazie al suo gusto arrotondato, GHD Unplugged permette di realizzare qualsiasi tipo di look si voglia, onde oppure anche capelli lisci. Arrivata qua il mio appuntamento, come sapete qua a Milano fa sempre super caldo, quindi andiamo a realizzare un look raccolto. Faccio una semplicissima coda bassa, in questo modo, e lascio dei ciuffi, che vado a prendere qua davanti, giù, che poi andiamo a realizzare mossi per rendere il look più romantico. Accendiamola. Iniziamo. Così vi faccio vedere anche come creo le mie onde, ma è super semplice e se mi seguite avete sicuramente imparato. Ecco qua un boccolo, facciamo anche l'altra parte. Realizzare le onde è super semplice, l'importante è fare tanta pratica. Tada! Ora sono qua al bar che sto aspettando una mia amica per bere qualcosa assieme, e ogni occasione è buona per ritoccarsi il look. Ora voglio passare a un look più mosso, quindi tiro fuori la mia GHD Unplugged, e intanto vi elenco alcune caratteristiche sempre appunto di questa Styler. Ad esempio riesce a supportare la Dual Zone Technology, che è proprio la stessa tecnologia di GHD Gold. Ha quindi due sensori sulle lamelle, che garantiscono una temperatura costante dall'inizio alla fine dello styling di 185 gradi, e poi vi spiego proprio perché di questo 185 gradi. Tornata alla base, finisco un'ultima ciocca con voi, come vi dicevo prima, GHD Unplugged. Ha una temperatura costante di 185 gradi, che è la temperatura studiata nei laboratori di ricerca e sviluppo di GHD. Temperatura ideale per uno styling completo, ma nel rispetto del capello. Terminata questa giornata, spero che il vlog vi sia piaciuto, e vi aspetto presto per tanti altri contenuti qua sul mio canale YouTube. Vi mando un bacio, e ovviamente se acquisterete GHD Unplugged, fatemi sapere come vi troverete, ma sono sicura che sarà un gioiellino, e non potrete più fare una femminina proprio come me. Ciao ragazzi!